Tracciabilità, web marketing, innovazione e internazionalizzazione sono alcuni degli argomenti del corso per la qualifica di tecnico della sostenibilità e della qualità nelle filiere agroalimentari presentato a Perugia nella sede della Confederazione Italiana degli Agricoltori. Tra i partner all'Istituto Agrario Ciuffelli e Naudi di Todi, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, il corso prevede una formazione gratuita di 350 ore e un tirocinio in azienda di 4 mesi con indennità mensile di 600 euro. Parte a novembre e riservato a 15 allievi diplomati disoccupati o inoccupati iscritti ai centri per l'impiego della Regione Umbria. Domande aperte fino alla 15 ottobre.